ciao a tutti ragazzi sono valerio novara di fage network oggi vi voglio parlare di nomadland il film di chloe jiao in cui c'è francis mcdormand come protagonista beh dovete sapere che nomadland è un film che all'inizio avevo pensato fosse molto documentaristico no fosse quasi un voler fare un'inchiesta su come vivono delle persone negli stati uniti dopo la crisi economica che c'è stata la grande depressione no viene chiamata del 2008 ebbene il film innanzitutto racconta la storia di una donna sessantenne interpretata da francis mcdormand che ha vinto due oscar già per fargo e tre manifesti ad ebing missuri molto brava apprezzo molto come come attrice la mcdormand e bene è stata la mcdormand a scegliere la regista di questo film ha preso spunto da un romanzo e ha voluto chloe jiao dietro la macchina da presa ebbene chloe jiao una donna che ha voluto innanzitutto girare il film a mano quindi nelle lunghe passeggiate che contraddistinguono il film in cui c'è proprio la mcdormand che intraprende questa vita da nomade dopo che le è morto il marito e che risente anche lei di questa crisi lei lavora saltuariamente stagionalmente nei magazzini di amazon del dell'ovest degli stati uniti ebbene la mcdormand ha scelto la regista che ha anche montato il film il film l'ho apprezzato molto perché ha delle chiavi di lettura diverse ed è tecnicamente girato bene dicevo chloe jiao ha deciso di non usare i carrelli no quando c'è una scena che si deve riprendere lateralmente spesso viene usato il famoso carrello la lascia molto più scorrevole la scena invece ha deciso di girare tutto a mano quindi segue passo dopo passo con la macchina da presa e con direttore della fotografia ci sono delle immagini del backstage molto divertenti in cui c'è chloe jiao appunto che insegue la mcdormand in queste lunghe passeggiate che ci danno anche una sensazione di passare del tempo di trascorrere del tempo e di vivere una vita totalmente diversa da quella che si può vivere in una quotidianità di una città ebbene questa donna decide di partire con il suo camper e di intraprendere la vita dei nomadi nel film ci sono moltissimi veri nomadi che chloe jiao ha deciso di contattare quindi di far raccontare loro anche le proprie storie emblematica la storia di una di loro che racconta come sia alle prese sia stata alle prese con una malattia e durante il film ci sono dei momenti in cui lo spettatore è anche ha la sensazione di trovarsi di fronte ad un documentario ben girato ma comunque un documentario che testimonia lo stile di vita di queste persone che comunque riescono a trovare anche una loro felicità all'interno di una vita che non ha tutti i comfort come la vita che viviamo quotidianamente ho apprezzato moltissimo quindi il lavoro tecnico della regista bravissima non la conoscevo prima di questo film la regista che è di pechino e tra l'altro ha avuto modo di commentare anche con polemica un documentario cortometraggio in particolare documentario che è uscito in questi giorni di un regista norvegese che parla appunto delle proteste di hong kong contro il governo di pechino e lei ha espresso solidarietà alle proteste che poi si sosseguono ormai da un paio d'anni questo film dicevamo è girato in un modo molto bello tecnicamente è fatto benissimo il direttore della fotografia mi è piaciuta tantissimo la fotografia perché ci sono ti rimangono impressi questi tramonti questi paesaggi questo vagare che è per l'appunto poi il messaggio che il film vuole no vuole trasmettere a un certo punto anche attraverso la fotografia la luce del sole mi sono rimasta impresse delle immagini di questi tramonti e della protagonista che cammina in queste vaste pianure che ci sono negli stati uniti occidentali e che si trova immersa in questi colori strepitosi questi colori straordinari la scelta quindi di girare a quell'ora del giorno e in quel determinato momento va dato atto al direttore della fotografia di aver fatto un grandissimo lavoro anche il montaggio devo dire la curiosità che vi voglio raccontare che Chloe Zhao ha fatto un po tutto lei nel senso che è stata prima convocata dalla McDormand per stare dietro la macchina da presa quindi per essere la regista del film e se lo ha anche montato da sola il film è montato molto bene che alterna comunque dei momenti di vissuto della protagonista fra il prima e anche quando era in vita il marito quindi la vita che conduceva prima della grande depressione a cui abbiamo fatto riferimento poco fa a quello che invece è dopo quindi trovare una nuova rinascita a 60 anni non è facile per nessuno ma trovarla anche grazie a delle persone che hanno scelto di vivere in un determinato modo ci fa molto riflettere e capire l'importanza anche di dare il giusto peso alle piccole cose non di accontentarsi perché accontentarsi non è mai non è mai la cosa giusta secondo me ma di dare il giusto peso a quello che ci che ci capita nella vita e nella quotidianità perché da ogni cosa possiamo tirar veramente fuori il bello il positivo dobbiamo cercare di tirar fuori il positivo lei comunque si vedono nelle immagini c'è questo contrasto fra la delicatezza quindi anche una bellissima colonna sonora di sottofondo tra l'altro mi ha fatto strano che non fosse candidata anche agli oscar nel nella categoria delle colonne sonore perché ti accompagna nei momenti in cui la protagonista cammina e quindi fa queste lunghe passeggiate nella natura e c'è questa musica che ti infonde anche tranquillità ti rilassa e ci sono invece le scene in cui lavora da amazon e purtroppo ne abbiamo sentite moltissime di storie nei magazzini amazon e di quanto no sia frenetico invece il lavoro all'interno di queste fabbriche quindi ho apprezzato anche l'ambiente l'ambiente l'ambienz come si suol dire la musica d'ambienz che c'è che c'è intorno poi ad una storia che comunque ti rimane nel cuore ci sono dei momenti in cui ti commuovi per le storie dei nomadi ma anche per la storia della protagonista che comunque ha scelto di fare una vita che non è da tutti e sono storie che sono contento siano state raccontate perché non ci si pensa mai abbastanza nel senso che poi quest'anno agli oscar abbiamo una serie di film che parlano tutti di tematiche diverse degli invisibili degli ultimi dei diritti del della vendetta dell'immigrazione ma tutti hanno una chiave di lettura molto particolare e cioè che fanno parlare spesso chi in quelle situazioni ci si è trovato quindi è stato interessante vedere come è stato analizzato anche il tema della di trovarsi a 60 anni senza un marito quindi con il partner che non c'è più e dover fare una scelta alle prese con una crisi economica che comunque sia ti mette in condizione di dire oddio ti mette anche la paura di dire oddio ce la posso fare ad andare avanti e quindi ad andare ad arrivare a fine mese ad arrivare a fine giornata spesso e a pensare veramente come posso farcela da sola quindi un film che devo dire ho apprezzato tantissimo ne apprezzerete i colori e anche l'ambientazione mi ha ricordato molto su questi tramonti il fatto di girare a quella determinata ora e con quelle determinate luci mi ha ricordato molto i paesaggi di revenant con leonardo di caprio anche se l'argomento è totalmente diverso ma mi ha ricordato la diciamo la fotografia di inarritu del regista di revenant quindi vi consiglio di guardarlo e fateci sapere cosa ne pensate anche nei commenti qui sotto se vi è piaciuto particolarmente lento in alcuni punti ma è un film che comunque tramanda un messaggio molto forte che che ci insegna è sicuramente qualcosa ci fa capire qualcosa in più io ho imparato tantissimo dai film candidati agli oscar quest'anno perciò ditemi la vostra cosa ne pensate seguiteci sul nostro sito feige.it sul nostro sulla nostra pagina facebook sul nostro canale instagram e su twitch siamo in live praticamente tutte le sere su twitch per raccontarvi il cinema le serie tv e domenica in vista della notte degli oscar saremo in una maratona live per tutta la notte a partire dalle 22 30 sul nostro profilo twitch ciao a tutti